Uno dei principali progetti su cui la città si visurerà nei prossimi anni ed è un ulteriore passo in avanti della nostra sanità. Gli anni recenti sono stati gli anni del core, sono stati gli anni della fusione, di un nuovo pal, della riorganizzazione di tanti reparti, di una crescita dell'investimento tecnologico e anche delle risorse umane, delle competenze della nostra sanità, il passaggio del mien è un ulteriore passo importante della gloriosa storia della nostra sanità locale.